Nasce a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, il Museo della Ceramica Contemporanea Mediterranea, progetto finanziato dal programma integrato Città Sostenibile con i fondi POR-FESR, 500 metri quadrati dedicati nel complesso monumentale di San Giovanni ex ECA. Presentazione ufficiale nel Salone d'Onore del Palazzo delle Città con i curatori scientifici François Burcard, Massimo Bignardi e Diego Granese. Tracciata la genesi della realizzazione del museo. La storia dei grandi interpreti della ceramica e del design cavese ed internazionale che esporranno in MCCM e la progettazione dell'allestimento. Ascoltiamo il sindaco Vincenzo Servalli. Progetti che vengono da una programmazione articolata, complessa, un dialogo costante con la comunità europea e con la regione Campania. Stiamo cominciando a presentare dopo Parco 10 Mare questo secondo progetto che è veramente straordinario e che pone Cava dei Tirreni con un'iniziativa di altissimo spessore a livelli molto alti per quanto riguarda la cultura, il design, la ceramica e lo sviluppo del nostro territorio. Noi ci auguriamo che per Natale possiamo fare questo bel regalo alla nostra città. Presenti anche l'artista internazionale Lind Burkhard e il vicepresidente dell'ICC, l'Associazione Italiana Città di Antica Tradizione Ceramica, Lucio Rubano.